nuove alfa romeo stelvio giulia model year 20 oggi sono in grado di offrire un nuovo mondo di servizi connessi grazie ad alfa connect box alfa connect box è una scatola telematica connessa in grado di condividere dati tra nuove alfa romeo stelvio giulia model year 20 e altri devices come la radio a bordo vettura l'app mobile my alfa connect o la pagina personale clienti sul portale web alfa romeo le operazioni a distanza permettono all'utente di interagire a distanza con il veicolo per esempio è possibile sbloccare o bloccare le porte attraverso lo smartphone oppure lo smartwatch è possibile visualizzare la posizione la distanza del veicolo e raggiungerlo tramite il navigatore dello smartphone tenerlo sotto controllo quando è guidato da un'altra persona tramite gli avvisi di guida settando i parametri autorizzati di velocità i confini geografici e l'orario di guida nuove alfa romeo stelvio giulia model year 20 sempre connessa grazie a tutti